Come e cognome? Marco Maronese, età, 21 anni, team di appartenenza, da dove arrivi? Da Lutrano in Fontanella in provincia di Treguisi. La settimana Coppie Bartali è la tua prima esperienza in maglia azzurra, giusto? Sì, giusto. Un primissimo bilancio? Direi che sono molto soddisfatto di questo quinto posto ottenuto oggi. E' stata dura perché è un'etapa molto impegnativa, non ero abituato perché tra i direttanti non ci sono cose così dure. Sicuramente questo giro tappo mi può servire in futuro per i prossimi appuntamenti tra i direttanti. Le tue caratteristiche? Sicuramente sono un uomo veloce, però riesco anche a difendermi un po' in servita. Infatti oggi sei stato il migliore degli azzurri in questo arrivo in volata. Sì, potevamo anche forse far meglio perché anche Matteo stava bene, purtroppo non ero riuscito a tenere la mia ruota. Poi abbiamo utilizzato Ganna un po' troppo presto per chiudere sulla fuga perché non solo una squadra voleva mettersi a tirare e purtroppo è andata così. Com'è stata, anzi com'è questa esperienza di affiancare un atleta professionista come Rinaldo Nocentini e anche Matteo Pelucchi? Sicuramente molto positiva, ci danno molti consigli. Poi anche l'utilizzo delle radiovine qui è molto utile e ci insegnano anche a come stare in corsa quando intervenire oppure no. Domani l'ultima tappa? Sì, domani è una corsa forse quella più impegnativa sulla carta, non è adatta alle mie caratteristiche, però cercheremo di dare una mano sicuramente a Rinaldo che è in classifica e anche possiamo. I prossimi appuntamenti? Il giallo di Nara Bolghera con la squadra di Accolazza, poi anche martedì a Ceresara, però poi arriveranno appuntamenti più importanti. Hai un sogno in maglia azzurra? Sicuramente c'è il mondiale a ottobre che ha dato le mie caratteristiche, però vediamo ancora lunga la strada. Grazie Marco, bocca al lupo! Grazie.